wow 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 ma quanto lagga quanto lagga sto dezio ma che diavolo guardate quanto lagga oh mio dio abbiamo killato il laggerino saltellino occhio sparano anche altri si fucile a pompa per noi abbiamo bisogno di munizioni abbiamo bisogno di roba si proprio questo oh si quell'armetta che stavo cercando quella dei desideri occhio stavano sparando qua fuori andiamo ok qua davanti uno l'hanno mezzo distrutto non capisco chi non capisco come non si vede nessuno via ci nascondiamo qua dietro si belli croccanti belli felici ma chi diavolo stava sparando cioè non si vede più nessuno ci ho beccato cucciolino oh 360 occhio vieni 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 toccato aveva killa il tizio con la coroncina quello potrebbe essere golosissimo per noi dove vai cucciolo a prendere la coroncina vai 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 vada 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 che ti faccio mio dio l'abbiamo fatto anche saltellare ci dobbiamo inventare una roba prima di andare no prendiamola subito la coroncina ci serve assolutamente subito vediamo se qualcun altro va a prendere ladro di coroncine rilascia 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 la verità che non sto che metti raggio metti raggiù andate signori bot andate occhio ce la sciagliamo in silenzio prendi la no 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 prendi la crocina ok molto molto buono ne facciamo finta di niente siamo qui in via transitoria molto voloso nessuno ci è venuto a dar fastidio ci dovrebbe per la miseria ok bravo sciacalla in silenzio non venire quasi prendi le card dei tuoi amici prendi 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 ragazzi prendi ragazzo bravo 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 mettici ancora un pochettino più di tempo bravo facciamo un piccio occhio ce lo ritroviamo davanti salve guglielmo e arrivederci bolletto occhio un altro migliorino ma quanti diavolo ce ne stanno stanno combattendo contro oh no 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 questo lo dobbiamo prendere questo lo dobbiamo prendere no signor signor oh porca la miseria vieni 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 ok è bianco no abbiamo sbagliato arma ci sparano anche altri c'è un caos assoluto da sti pizzi facciamo una robetta ci prendiamo questo qui per spostare ok la da ooo ci ha distrutto ci ha distrutto c'è distrutto pump spammerino pump spammerino bravo 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 buona notte 1 quest'altro è l'amichetto ok buona notte anche l'altro so quanti player ci sono c'è anche un alieno dobbiamo villare anche l'alieno dobbiamo anche villare al 100 per cento andiamo qua sopra per non so me leggere ma che diavolo fatto ho lasciato ma perché ma che diavolo madonna mia cosa che ha lontato signor alieno salve ecco le volevo dare scarzone quest'alieno e ce lo meritavamo ce lo meritavamo lo scarzone alla fine gustosissimo dovremmo riandare a prendere a dire il vero gli scildini che ho droppato totalmente per sbaglio ma sono finiti quei player in i spero o calmati o signor mitacchioso probabilmente no non è mai da solo il signor mitacchioso noi non siamo qua noi non signor mitac signor mitac mi dire che stanno in macchina salve signor ciao signor mitacchioso grazie mille di tutto se non si sono resi conto di null ma che diavolo fanno ma avete capito che c'ero io o non l'avete capito ok 85 è golosissimo noi ce ne andiamo in seguimento all'interno della savana dobbiamo andare dobbiamo raggiungere il mega pixel nonno che ci sono una portata di escape ma questi scappano fanno parkour con le macchine ok va bene va bene va bene vorrà dire che o dottoressa slon bravi sì 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 sfidate la dottoressa slon o mio dio pazzi scatenati no hanno parcheggiato dalla dottoressa e stanno scappando ma che strategia io li vado ad acciaccare a questo punto li acciacchiamo al 100 per cento dove scappano facciamo una roba noi li dobbiamo prendere li flanchiamo qui dalla sinistra vediamo se magari è il mega pixel non ci fa un'esplosione in diretta ok distrutto mi dà forse non so se mi dà o è l'altro vediamo se riusciamo a prendere ok a scildare scildare scildato scildato sono scappando ma forse da qualcuno o da qualche cosa ma sicuramente non da noi che amici miei mi raccomando all'interno nega soggetti inserito utilizzate il codice più fresco del centro italia r4 scherzo io lo sapevo che tornavate cucciolini io ne ero certo che ho aspettato ok 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 1 mezzo distrutto voglio capire che ti ho lo vogliono fatto ok no 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 l'altro sicuro dove l'altro 2 e la ama e questi sono altri due questo non ci prende per niente occhio un bravo 120 e si gode 120 si gode ora ti vengo pure a finire e ora ti vengo pure a finire la voglia a chiamare il tuo amico ha aperto lui una cento per cento ok chi lato chi lato chi lato dobbiamo stare molto molto attenti a capire da dove viene il suo amichetto sicuramente verrà qui a prendere la testa quel tizio è volato via non so se magari è da sti vizi sicuro viene a prendere la testa ma dobbiamo capire da dove parte arriva no questo è un altro questo è un altro e mi chiamiamo mi ascolo e mi chiamiamo mi ascolo potrebbe essere l'amico o forse siamo stati noi sì official siamo stati noi ad aprire la porta occhio 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 oh sì sì signor gunni sì signor gunni con la fiocina bravo 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 one hit one hit one hit non te ne vuoi andare così cucciolo non te ne vuoi andare così vieni qua gunni 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 e one hit official non riusciamo a chillarlo occhio c'è troppa gente il botto ha chillato mi ascolo occhio qualcun altro che volava noi dobbiamo stare dobbiamo visionare soprattutto questo la card dietro ma che fa ma che fa mi chiamiamo mi ascolo mi voleva sparare vieni 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 oh 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 quasi ti prendevo facciamo una roba non ci facciamo distrarre perché io devo aspettare l'amico che sicuramente viene a prendere la testa vediamo dove diavolo stanno ok c'è un play in un laddanti che sta sparando amici o mi ascolo che ovviamente scappa vieni 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 cecchinate bruttissime per noi cecchinate bruttissime per noi hanno distrutto il mondo che diavolo no quasi prendeva il pesce secco qui non si muove nessuno non sta arrivando nessuno pesce secco fermo immobile lì vediamo se questa gli va ma porca la miseria dobbiamo addirizzare eccolo vieni 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 ti aspettavo cucciolo sono stato qui due ore aspettarti ora ti voglio ora voglio la mia villa occhio un altro play in un laddanti che abbiamo aiutato posso finisci lo tu finisci lo tu tanto io l'aspetto ma che diavolo vuole quel pesce secco 7.000 cecchinate non l'abbiamo mai preso fermi 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 ci ha distrutto il mondo a capire che poi eravamo qui ok ok abbiamo un problemino ci hanno spottato tutti quanti se è meglio lasciare la nostra zona ce ne andiamo da quest'altra parte non dobbiamo far riprendere però la testa col miserabile eccolo 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 il miserabile vieni 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 distrutto occhio si sparano pure altri non capisco che no ce ne dobbiamo andare ci dobbiamo andare spara ci dobbiamo andare assolutivamente forse ha preso la carta la card non capisco il diavolo ci stava sparando ok qui siamo più safe siamo più tranquilli ok 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 ma chi diavolo mi spara occhio quel tizio ok vuole prendere la testa vuole prendere la testa del 100 per cento noi lo seguiamo noi lo insegniamo vediamo aspetta 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 vediamo che si inventa dove va ma dove va no 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 io quasi quasi non li inseguo più anche perché il nostro ok si esci da lì cucciolo esci da lì che ti aspettiamo guardate quanto l'ultimo davanti vieni vieni sta sguazzando non si provare cucciolo tutto è il nostro obiettivo da sempre quel car armò sta continuando a sparare non sono andato è scomparso ufficialmente vediamo se riusciamo a tirare di qualche palletata no ovviamente non riusciamo o si riusciamo abbiamo preso qualcosa ce ne dobbiamo andare in safe ce ne dobbiamo andare absolutissimamente in safe facciamo così carica che spara let's go 13 player in i vivi gustosissimi io lo sapete ma cos'è questo qui che vuole a pure player qua sotto volante occhio non abbiamo escape stanno venendo utile a noi o non vengono utile a noi abbiamo finito i colpi dell'assalto ok non buono per niente non buono abbiamo bisogno di colpi d'assalto soprattutto c'è sono gli unici colpi che ci servono stanno sperando quanti forse questa è un'ottima kill per noi 120 killato no dove è l'aria dove è l'aria via 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 fermi fermi mi spara qualcuno anche qua sotto traietta per noi traietta dei desideri questo non si è reso conto di niente dammi colpi di prego dammi colpi via 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 ci butta giù l'albero è ci butta giù l'albero al cento per cento non capisco no 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 ok abbiamo buttato noi in avanti o po 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 serie di situazioni non tanto buona questa mai preso o perfis e non cucciolo basta a mario ok abbiamo noccato o mio dio si è azionato il mega pixel on fermi 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 calmi tutti calmi tutti morti siamo morti official morti official questo spazio però fermi fermi questo spazio solamente vieni 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 con mio dio stanno spruzzando qua dietro c'è un caos allucinante non si sta capendo niente 15 kill golosissime ce le siamo portati a casa noi abbiamo bisogno di un escape vediamo se qua dietro c'è qualcosa di golosissimo tutte armi blu ce l'abbiamo già le armi blu c'è l'unica che non abbiamo non ce l'hanno maledetti fermi che però ma cosa diavolo si clombo clomberti che stanno spruzzando due ore avremo bisogno di quel medikit ma non facciamo più in tempo a prendercelo io quasi quasi uno spruzzino me lo faccio io quasi quasi costruzione me lo faccio ok prendiamoci la e ground qui hanno buttato giù questo legno noi avremo sparano sparano ma chi diavolo è qui perché tutto blu noi avevamo bisogno in realtà ok ci hanno spostato qualcuno che sparava dalla sopra fermi cuccioli fermi cuccioli non siamo per niente una buona situazione questo è il mitaccioso di prima questo è il mitaccioso di prima e porca ok lo cado uno fermi è fermi dobbiamo villare questo probabilmente vuole salire in qualche maniera vieni fuori è camperato è camperatissimo lui è molto si è messo in una posizione migliore rispetto a noi che ci possono sparare anche dall'esterno facciamo una roba dov'è ok no ma dov'è forse resta l'amico ok buonanotte fringolini hanno nessuna e fermi macchina soli soli signorina ok forse sono scappati con la macchina non stanno arrivando da quell'altra parte 4 player ieri quindi siamo noi contro un team qui non c'è niente per una non ci sono granatine facciamo una roba lancia un po di queste pomadine totalmente random a caso tanto altro che riusciamo a spostare qualcuno ok ci andiamo fermi sono le nostre i nostri impulsi che scoppiettano siamo noi contro un team non so se riusciamo a portarcelo a casa questo game è stato epico questo sta succedendo qualcosa una ma cosa diavolo è se loro ci prendono prima di noi abbiamo ufficialmente verso perché non abbiamo escape e ci frullano quindi noi dobbiamo giocare nell'ombra e da vicini in silenzio francesco io c'è sfoglio si sparano non sono spavendo ticino subito ticino dove l'amico per me o l'amico di con l'amico di quattro e 1 4 1 e 1 4 1 che scoppa di più vince che scoppa di più vince megawin portata tom ovvio che abbiamo fatto una bordata di kill questi sono gli ultimi game in previsione della nuova si insomma di fortnite mi raccomando perciò all'interno del negozio oggetti inserite utilizzate il codice più fresco del centro italia r4 iscrivetevi al canale al canale campbellina del notifietro fate un bel like furbetto se ancora non l'avete fatto ora vi lascio due video bomba mi raccomando andatevi a vedere noi ci vediamo prestissimo con tante altre news e listra